Tanto tempo fa, in un universo lontano, esisteva una serie sul canale di non lo so mille, chiamata Mixers. Improvvisamente, quella serie non si sa che fine ha fatto, ma oggi vi comincerà Mixers, il viaggio nel tempo. Oh, sai che cosa potremmo fare oggi? Immaginavo. Io dovrei fare un film, però sono qui. Infatti, dove siamo? Doviamo subito avvisare gli altri, ma se no li troviamo! Oh no, è caduto tutto! Tutto per colpa di quei cosi che sono precipitati! Aspetta un attimo! Quei cosi che sono precipitati? Sono TNT e... Cos... 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 Lui, lui! Hai ragione! Sono loro! Dobbiamo fare qualcosa! Sì, andiamo da loro! E così... Ciao! Sì! Ragazzi, per fortuna ci siete voi! Sì, ci siamo noi! Ma che ci fate in queste terre? Sono volate da un popolo molto pericoloso! Oh no! Ne sta arrivando uno! Due, uno, due! Due, uno, due! Ok! Continuerà così all'infinito! Conoscete la via? No! Ok! Ah, veramente basta da questo! Ma dobbiamo impedire... Quello che sta per succedere! Cosa sta... Cosa sta per succedere? No, non penso che cadranno caramelle del cielo! No, ma dove stai andando? No, 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 no! No, 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 no! Ah... Dice che continueranno... Da molto tempo, sì! Ma dove saranno finiti tutti? Squad, penso che stanno con quell'Uganda Nacos! Eh... Per lo penso anch'io! Dobbiamo avvisare i Mixers! Poi io devo andare a girare un film, quindi... Ah... Pensi che sei l'unico a dover girare un film? Beh, no, però... Vabbè, fai il tempo! Io sono stato incaricato dagli Angry Birds di difendere... da tutto quello che potrebbe succedere... queste... uova! Capito? Che cosa hai da irvi dare a tutti? Guardati dietro! Beh, perché non hai... Ma... ma... ed ora che cosa posso fare? Ci vuole un piano! Ma come faccio ad avvisare... Chuck... Red... Forse... Forse... Ah, ecco come! Ragazzi! Ma che ci fate qui? Insieme a questo Ganda Nacos! Beh, niente! Tu che ci fai qui? Beh, allora vedi un mio uovo e io... Stai scherzando, vero? Stai scherzando, vero? Stai scherzando, vero? Scherzini, vero? Stai scherzando? Spero... Spero... Beh... Vorrei tanto... Stai scherzando... Ma... Ok... Scusate un attimo, ma questo non doveva essere un episodio di Mixer... Ma... Do... Dove siamo? Non so... Non so... Lo devo sapere... Io! Chuck! Come facciamo a saperlo noi? Ecco appunto... Magari quel... Maglialino Lirde schiacciato a terra lo sa... Mi scusi signore... Lei sa dove possiamo trovare un'uscita? Continua! Continua! Continua!